Le bacche di Ginepro sono conosciute per la loro magia e i loro poteri curativi. Queste bacche scure, infatti, sono state utilizzate per secoli nella medicina popolare e nella magia. Il Ginepro, infatti, è un albero antico e sacro, associato alla protezione e alla guarigione. Le sue bacche sono usate in incantesimi rituali per attirare prosperità, salute e fortuna, oppure come amuleto personale o come offerta a divinità associate alla protezione, come per esempio l'aldea celtica Brigitte. Le bacche di Ginepro possono anche essere usate per purificare gli ambienti e allontanare le energie negative, essere bruciati come incenso o poste sugli scaffali e migliornati per proteggere la casa. Inoltre, le proprietà curative del Ginepro sono molto note già dall'antichità, in quanto queste bacche sono usate per trattare disturbi respiratori, digestivi, muscolari e problemi alla pelle. Le bacche di Ginepro possono essere usate anche per migliorare la concentrazione e ridurre lo stress. In sintesi, le bacche di Ginepro sono un ingrediente potente e versatile nella magia e nella medicina popolare, con i suoi poteri di protezione, guarigione e purificazione, sono un elemento prezioso da avere sempre tra reerbe e amuliti magici. Questo tipo di bacca può essere trovato anche sotto forma di olio, olio di bacche di Ginepro, che serve per ungere candele, foto, case o la fonte di chi deve essere protetto. Solitamente questi oli hanno una durata massima di tre mesi. Si può trovare anche questa bacca di Ginepro o qualche rametto naturale da poter appunto trasformare in polvere e bruciare come incenso sui carboncini.